ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video come al solito io sono gabry gabirillo oggi andremo a far rivedere due nostri nuovi liquidi vai birillo facci vedere sono due liquidi della dks uno è super cola buonissimo ora andiamo a fare la prova di svapo e quest'altro è super fruit è un esclusiva che ci abbiamo ora andiamo a fare la prova di svapo con quale vuoi partire gabry? con cola sicuro io partirei prima con la frutta va bene mi fido intanto che il drip io do la ciucciata alla mia come al solito druga e grani io con l'apocalips e la merona quattro batterie due in serie due in parallelo e serie fra di loro una resistenza a 040 il filo usato con la killer demo potentissimo viene su 040 facendo cinque spire di qui e cinque spire bene non è troppo aggressivo scalda troppo buono cosa ci senti l'aroma non riesco a sentire un gusto ben preciso aspetta che io dico un attimo un mix di frutta si è un mix di frutta tropicale eh per le strade sulla spiaggia quando sei lì con il tuo cocktail che te lo vedi tanta cosa il tuo cocktail da un paio di svappate di questa frutta come generale una ragazza si che cos'è questo profumino è il super fruit della dks una bomba una bomba una bomba vado a provare buonissimo è buono buonissimo carico carico e non ti smaga non ti smaga nemmeno che voto ci dai gabri stanno e mezzo stanno facendo sempre i liquidi sempre più belli corposi come ci piacciono a noi ora andiamo a fare la prova della super cola vai gabry l'odore si sente bella anche la bocchietta eh l'odore sembrava lo sciroppo quello del granito si o al gusto ancora si non mi piace tanto questa pipettina tribolapotica adesso è vero poi qua dentro ce ne va un bocchietta sembrano le coca coline quelle del cinema del cinema quando guardi mentre bavetti come le gole adoro è vero come le gole adoro alla coca coli è uguale potenti così si sente proprio liquido e potentissimo dolcissimo mi fa anche tossire da tanto che è zuccheroso però questo è una bomba ci do notte a questo perché ti sente proprio con la cola è fedele a quello che c'è scritto super cola si è super cola una bomba ricordiamo svapo caffè marina di carara e la spezia mi raccomando andate a fare un passo perché stanno uscendo tante cosine carine sia di box sia di box di liquidi dripper c'è l'imbarazzo della scelta anche se ti vuoi fare il liquidino come a Romi non lo batte nessuno mi raccomando da svapo caffè allora noi vi salutiamo vi lasciamo qui se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale vi aspettiamo tanti ragazzi ricordate che abbiamo la pagina su instagram e su facebook vi aspettiamo ciao